in questo numero del salus tg arriva la carta dei medici a favore del biotestamento tre proposte per il ddl farmaco antipsicotico promettente contro il cancro del pancreas in italia primo corso universitario che addestra medici di montagna mantenere l'idratazione e la nutrizione artificiale come trattamenti sanitari rifiutabili dal paziente difendere la natura vincolante per la struttura sanitaria delle disposizioni anticipate di trattamento e introdurre la possibilità per il medico su richiesta del paziente di operare una sedazione palliativa profonda continua con sospensione delle terapie sono queste le richieste avanzate dai medici favorevoli al testo del ddl biotestamento in un incontro organizzato dall'associazione luca coscioni alla camera le proposte verranno raccolte in un documento che sarà diffuso per la sottoscrizione da parte dei medici italiani una molecola nota con il nome di trifluoperazina utilizzata da tempo solo per la sua azione antipsicotica per curare gli stati d'ansia potrebbe aprire adesso nuove speranze contro il tumore al pancreas a individuarla un gruppo internazionale guidato dall'istituto di nanotecnologia del cnr di rende lo studio dimostrerebbe la capacità della molecola di interferire con la proteina nupr 1 a struttura disordinata coinvolta nei processi di sviluppo del tumore inibendo nell'attività un master cadestra medici per le spedizioni alpinistiche di montagna nasce in italia il corso universitario mountain expedition medicine dedicato alla formazione di personale medico e sanitario per l'emergenza e primo soccorso in alta quota organizzato dall'università dell'insubria di varese il master primo al mondo assicurano dall'ateneo lombardo partirà nel mese di marzo il 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 Grazie a tutti.